Siamo notati Gesù e Maria. Siamo nel giovedì dopo le ceneri, quindi proprio i primissimi passi del cammino quaresimale, carissimi fratelli e sorelle, e la bellissima liturgia, ogni giorno sarà uno spettacolo del tempo quaresimale, ci pone proprio oggi dinanzi il cammino, ci dà il là, le coordinate fondamentali entro cui muoversi soprattutto in questo tempo, dico soprattutto perché come sappiamo la quaresima è un'immagine della vita terrena, quindi quello che impariamo a fare in questo tempo ce lo dobbiamo portare a casa per praticarlo dovunque, invece a Pasqua facciamo nel tempo di Pasqua anticipazione di paradiso, ma purtroppo quella è solo anticipazione, dobbiamo rimandare il vedimento pieno. Allora, qual è il messaggio fondamentale della liturgia di oggi? Abbiamo sentito Mosè dire, guarda che ci sono soltanto due vie, una è la vita e il bene, l'altra è la morte e il male. La prima via porta con sé la gioia, la felicità, la benedizione dell'Altissimo, la seconda porta al contrario, in felicità, la predannazione e la non benedizione dell'Altissimo. Lo stesso Gesù nel Vangelo parlando della seguire dietro di lui, ha detto guardate se qualcuno vuole dire dietro di me, c'è una via da seguire, la via della croce. È evidente che la via alternativa alla croce è quella di non prendere la croce, ma di lasciarla, non rinnegare se stessi, ma affermare se stessi, non andare dietro a Gesù, ma andare dietro a qualche idolo, cosa già insinuata nella prima lettura. Qual è la differenza fondamentale? Qui dobbiamo tutti quanti diventare sapienti. La differenza fondamentale è questa, che la via di Dio non sembra buona, apparentemente, non sembra portatrice di bene, di felicità, ma sembra pesante, brutta, noiosa. Ecco perché Gesù dice nel Vangelo devi abbracciare la croce. La croce non sono soltanto quei brutti eventi della vita, quelle grandi prove che ci arrivano, certamente sono anche quelle, ma dice la croce ogni giorno. Ma oggi non mi è successo niente di male, non mi ha dato fastidio nessuno, non mi è venuta nessuna malattia, che croce ho oggi? Ce l'abbiamo ogni giorno, perché ogni giorno abbiamo una montagna di alternative. Allora, quello che ti sembra più difficile, quello che ti sembra apparentemente meno divertente, meno gratificante, eccetera, eccetera, sappi che il 99% è la via buona, perché passa attraverso la croce. Il contrario sembra bello, sembra attraente, sembra gratificante, tu lo fai e puoi stare male. Quindi è l'antichissima menzogna, è l'antichissimo inganno con cui purtroppo il nemico dell'umana salvezza ha sterminato il genere umano fin da principio, instillare il dubbio, il sospetto che se fai quello che Dio vuole sarai buggerato e starai male e invece se esci da quello che Dio vuole sarai finalmente felice, affermato e starai bene. Guardate, fratelli e sorelle cresci, penso che lo sappiate, non c'è bisogno di spiegazioni, di quasi totalità del mondo, giace sotto questo inganno, per questo viviamo in questo mondo. Siamo sotto questo grande inganno, è il Signore degli inganni e noi dobbiamo essere attenti di sfuggire a questo. Sapete, San Giovanni della Croce dava le regole per riscemere le vie buone, dice scegli sempre quello che è più difficile, più impegnativo, quello che è apparentemente meno saporito, meno divertente, meno gustoso, meno accattivante, mamma mia, che brutta vita. No, è solo un attimo, perché superato la prima fase, poi starai bene, attenzione non in paradiso, qui è superare la prima fase, dici che faccio, vado a farmi un'ora di preghiera, ho un bel film, è ovvio che tutti quanti dicono, ho un bel film, non è che una cosa, capite il senso, un bel film si può vedere, però sto dicendo una cosa per farmi, per cercare di far capire, per cercare di entrare nell'ottica, quindi è sempre così, quindi tu hai fatto una preghiera, ti sembra di dire, mamma mia, poi però ti porti a casa qualche cosa che non ti porti, dopo aver visto un bel film, se non un piacere passeggero, che è finito il film, è finito, è sempre così, nella vita terrena è così, in paradiso non sarà così, perché in paradiso sarà tutto quanto chiaro, evidente, sarà tutto quanto meraviglioso, divertentissimo e favoloso, perché se ne avremo il contatto diretto, ma qui non è così, il motivo per cui qui non è così, e chiudo, è il motivo per cui la chiesto di fare la nuova, perché qui stiamo in stato, come dire, tecnicamente si chiama, noi siamo viatori, siamo in una situazione di decadenza, di umanità decaduta, quindi la via del bene, che era tanto bella, agevole spaziosa, è diventata, nella condizione in cui ci troviamo, complicata, difficile, non dipende da Dio o dalla via, dipende da come noi stiamo nei suoi confronti, noi adesso non siamo attrezzati più, abbiamo perso il tutto quello che avevamo, quindi ritrovare la via e il bandolo della matassa è impegnativo, ecco perché il discorso della croce è un discorso costitutivo, ripeto, non soltanto per essere pronti alle grandi sofferenze che tutti chiamano croce, ma proprio a questa sfida quotidiana che ogni giorno c'è dinanzi, tra la via di Dio che sembra non bella, ma invece lo è, e la via del mondo o del diavolo o della nostra volontà è la stessa cosa, che sembra bellissima, ma non lo è, questo purtroppo è un combattimento quotidiano e in questo tempo siamo invitati chiaramente a raffinare le armi e a fare buone esercitazioni che poi ci portiamo chiaramente terminata la guarisima nella vita di ogni giorno. Siamo votati Gesù e Maria.